Ciao a tutti ragazzi, benvenuti al nostro canale e grazie per averlo visitato. Spulciando tra i file abbiamo trovato dei video fatti ad artigiano l'anno scorso e abbiamo creato questo piccolo video. Mi raccomando guardatelo, commentate e lasciate i like e naturalmente iscrivetevi al canale. Quindi sigla! Grazie a tutti! Ciao! Un besos, un besos molto grande, molto caliente. Un beso, molto caliente. Tutto malati, tutto pazzi. Un beso, molto caliente. 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti